Benvenuti in questo nuovo video di giardinaggio. In questo video vedremo insieme come coltivare piante di meloni. I meloni possono essere coltivati dal mese di aprile fino a fine maggio. Con una peletta da giardiniere vado a scavare una buca piccola circa 10 cm per mettere al suo interno dell'etame biologico di cavallo. Inserito il concime nella buca bisogna ricoprirlo con uno strato leggero di terreno. La piantina di melone non bisogna piantarla troppo in profondità ma soltanto la parte radicale. La distanza tra una pianta e l'altra è di circa 60 cm e tra una fila e l'altra circa 80 cm. Grazie. Grazie a tutti. Vi ricordo di lasciare il colletto fuori dal terreno che sarebbe dalla parte radicale fino alla prima fogliolina. Questo fa sì che la pianta non marciscia al colletto. Con l'aiuto delle mani bisogna leggermente compattare il terreno intorno alle radici. Piantate le nostre piantine di meloni bisogna subito annaffiarle. Per quanto riguarda le annaffiature bisogna mantenere sempre umido il terreno leggermente. Nel prossimo video vi mostro come mettere i sostegni vicino alle piante di meloni e vicino alle piante di cetrioli. Se questo video ti è stato utile in qualche modo lascia un pollice in su, condividilo con qualche tuo amico e se ancora non sei iscritto iscriviti. Ciao al prossimo video.